Nella settimana dal 21 al 26 novembre tornano le giornate FAI per le scuole. Una manifestazione interamente dedicata alle scuole giunta alla sua undicesima edizione. In occasione dell'evento saranno aperti in tutta Italia oltre 100 luoghi speciali, visitabili dagli studenti iscritti al FAI con le loro classi. A guidarli tra i percorsi e raccontare le loro storie ci saranno altri studenti, gli apprendisti ciceroni, formati dai loro docenti ed esperti del territorio. La delegazione di Caltanissetta partecipa all'evento con un programma che coinvolge quattro comuni, Caltanissetta, Gela, Mazzarino e Riesi. Il 23 e il 25 novembre a Caltanissetta sarà possibile accedere a Palazzo Mongada, visita guidata dai ragazzi del liceo classico Ruggero VII e dall'IS Manzoni-Iuvara. Per tutta la settimana, dal 21 al 26, Gela accoglierà i suoi studenti al lungomare Federico II in un percorso definito Gela e il suo mare. Il 23 e il 24 novembre a Mazzarino gli studenti faranno visitare la chiesa di San Francesco di Assisi. Mentre a Riesi, dal 22 al 25 novembre, il centro storico si riempirà di studenti, coinvolti nel percorso dal nome Una Passeggiata nella Storia, Riesi dal 1647 al 1900. Il 24 novembre a Mazzarino e Riesi dal 2600.